La Fontana della Barcaccia, una pappiniera, è devastata. L'Ama è subito intervenuta. Silvio Berlusconi assolto dai giudici della seconda corte d'appello di Milano per i peccati. Praticamente la Germania ha finito, la Svizzera ha finito. Milano in questo momento è completamente deserto, il centro di Milano è ostaggio. È un Roberto Formigoni decisamente alterato, quello che un utente Facebook ha catturato. Rassegnata ma pronta a guidare le file dell'opposizione, così è parsa questa mattina. Il debito pubblico sfiora i 300 miliardi di euro. Domani mattina tutto deve essere pronto per la stagione invernale dei saldi. Un momento all'interno. 12 Buchanan in Havable Zone, uno di loro è Kepler 452B. Posso fare i complimenti invece all'agenzia pubblicitaria della birra Ceres? Assolutamente gratis, lo diciamo, però mi è sembrata una bella idea. Grazie a tutti.